L'ufficio del garante è stato istituito contemporaneamente quasi alla figura del garante per i diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e non è, diciamo, come dire, è molto importante sottolineare questo secondo aspetto nel 2005 fondamentalmente dopo la legge 5 che con l'articolo 33 istitui appunto questa figura di questa sorta diciamo di authority indipendente perché l'attività del garante deve essere autonoma per legge che serve appunto a garantire i detenuti nei loro diritti fondamentali. Senta, il garante è di nomina del Presidente della Regione, è così? È di nomina esclusiva del Presidente della Regione che con proprio decreto appunto nell'ambito delle personalità che possono avere, che hanno le caratteristiche previste dalla legge può nominare il garante a sua scelta diciamo. Senta, prima di entrare nello specifico anche dei problemi che abbiamo soltanto accennato, parlare di diritti dei detenuti è importante perché? È importante perché proprio oggi in Parlamento c'è il famoso svuota carceri e quindi è un argomento di estrema attualità, è un argomento di attualità perché questo mondo poco conosciuto, perché appunto chiuso tra le mura dei vari istituti, è un mondo a sé ma che ha tantissimi problemi e chiaramente non dobbiamo dimenticare che per ogni detenuto c'è una famiglia fuori che è priva tante volte del capofamiglia, ragazzi che sono prive delle mamme, dei genitori, quindi è chiaro che c'è tutta una problematica attorno a questo mondo e dentro gli istituti che va attenzionata con estrema precisione, per ridare dignità anche a questo mondo. Tanto questo dobbiamo anche ricordarlo, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare la nostra parte, la funzione sociale del carcere che spesso viene sottasciuta, comunque viene un po' mortificata, questa va evidenziata, voglio dire si finisce in galera per essere, tra virgolette mi consenta questo uso, rieducati, reinseriti nella società, allora ci sono una serie di garanzie che devono essere offerte a chi... Non c'è dubbio, intanto anche il nostro ordinamento giuridico prevede due cose, l'aspetto punitivo, quindi io ti tengo recluso perché hai sbagliato, hai violato il codice penale e quindi sei stato soggetto a una condanna. L'aspetto riabilitativo, cioè il carcere non è fino a se stesso, è finalizzato a un reinserimento sociale, altrimenti non produrremo altro che un periodo di stasi e se vogliamo in alcuni casi anche tra virgolette di addestramento maggiore all'interno di quell'ambiente per poi ritrovarci fuori con persone che devono tornare a delinquere, in questo caso per necessità, perché non riescono a reinserirsi. È chiaro quindi che l'aspetto del reinserimento sociale e quindi della salvaguardia dei diritti fondamentali dei detenuti e non dimentichiamolo delle loro famiglie è un aspetto fondamentale che chiaramente stava evidentemente a cuore, sta a cuore sia a livello nazionale che a livello regionale ma soprattutto viene sottolineato a livello europeo perché obiettivamente è un problema sociale molto gravoso. Ecco, a questo punto quando ad esempio in Sicilia da 5 mesi il garante dei detenuti non c'è perché è scaduto il suo incarico, non si è provveduti a nominarne uno nuovo, cosa si ferma per voi come ufficio ma soprattutto cosa succede a ricaduta per quanto riguarda i detenuti, le famiglie? È chiaro che noi abbiamo l'aspetto importante che è quello dell'ordinamento penitenziario, l'ordinamento penitenziario consente al garante, così come lo consente peraltro anche ai parlamentari quindi la figura viene equiparata da questo punto di vista a tutti i parlamentari l'accesso diretto in carcere senza nessun preavviso e senza nessuna autorizzazione. La funzione è appunto tra virgolette ispettiva ma è soprattutto una funzione di supporto a queste persone che hanno sicuramente sbagliato ma che hanno obiettivamente i loro diritti. In qualunque paese civile è così, così deve essere anche in Italia. Non per nulla siamo stati bacchettati più volte dalla comunità europea. Quindi cosa succede quando la figura del garante non c'è? Che noi abbiamo una limitazione dell'attività perché non riusciamo poi a essere autonomi rispetto alla figura che è il cardine dell'ufficio, tant'è che il nostro ufficio è a supporto dell'attività del garante ma la figura principale è quella del garante per cui noi non possiamo in questo momento recarci negli istituti di pena e questo comporta non pochi problemi. Tra l'altro abbiamo anche una copiosa corrispondenza in ufficio che nominativamente, probabilmente anche sbagliando, era indirizzata all'ex garante che era il senatore Fleres e che quindi noi non riusciamo... Ma anche perché se dovessimo andare a vedere cosa contiene questa corrispondenza non potremmo comunque intervenire se non con un'attività di supporto delle famiglie le quali però possono venirci a trovare naturalmente negli uffici e sanno quindi che noi possiamo dare un sostegno. Ma in questo momento è più finalizzata l'attività al supporto alle famiglie che non al supporto ai reclusi. Gli uffici del garante per i detenuti della Sicilia sono a Palermo? Sono a Palermo e a Catania. A Palermo sono in via la regione siciliana 2246 e a Catania sono in via Tenea 73. Ricordiamo che il garante svolge questo incarico a titolo gratuito, quindi non c'è un gettone, non c'è una remunerazione. Anche questo è importante sottolinearlo. Sì, è importante sottolinearlo perché precedentemente la legge aveva riconosciuto un emolumento forfettario annuale lordo che poi per una serie di polemiche non è stato più posto in essere. Vuoi perché l'allora garante, appunto Fleres, rinunciò spontaneamente a questo emolumento perché non era quello, diciamo, il suo scopo, faceva altro. E vuoi perché comunque poi la legge stessa fu modificata per togliere questo emolumento. Quindi oggi è a titolo onorifico, diciamo. Noi abbiamo scelto di aprire questo spazio oggi intestandoci anche la possibilità di poter chiedere direttamente al presidente della regione Crocetta, visto che la nomina del garante spetta al presidente della regione, di colmare questo vuoto e di provvedere in tempi brevi all'individuazione di una figura che possegga dei requisiti, credo, di competenza nel campo. Di competenza. I requisiti sono molto semplici. Ci deve essere residente in Sicilia da almeno cinque anni e deve avere una comprovata esperienza nel campo, appunto, della difesa dei diritti umani e in favore di queste categorie sociali, diciamo, tra virgolette, deboli per quanto riguarda la loro situazione di reclusi. Noi cercheremo di fare la nostra parte. Allora, chiedendo ripetutamente che questa nomina giunga in tempi brevi, grazie intanto dottor Giglione, buon lavoro per ciò che in questo momento l'ufficio riesce a fare anche in assenza del garante.